Live Social 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 ad esempio negli Stati Uniti dove abbiamo conseguito un'attestazione di istruttori bootcamp che è praticamente un allenamento in stile militare, stile Marines quello che si vede nei film esatto, avete presente le ruote dei camion, i sacchi da trincea, le corde nautiche come no, caspita complimenti, coraggio sono quei passi che vedete nei parchi che girano con le ruote a tracollo e le corde e facciamo lezioni all'aperto appunto e quindi negli Stati Uniti abbiamo preso questa certificazione approfittando di un viaggio a Los Angeles e abbiamo appunto conseguito questa certificazione negli Stati Uniti mentre invece in Thailandia siamo andati nella parte opposta, in oriente nella parte olistica per curare ovviamente anche la mente quindi ovviamente è una preparazione a 360 gradi a tutto tono quindi fisico ma mente soprattutto infatti in Thailandia abbiamo conseguito questa certificazione come insegnanti yoga, della Thai yoga e diciamo che con queste certificazioni diciamo un po' abbiamo ampliato quello che è il nostro cerchio quindi un benessere sia fisico che mentale assolutamente e insomma tutto questo poi ovviamente che è veramente tante cose ma soprattutto tante appunto esperienze abbiamo detto avete deciso ovviamente di creare questo Health and Training e quindi si è formata questa collaborazione raccontateci come è andata assolutamente ci siamo creati appunto questa strada dell'Health and Training perché un po' rispecchia quello che è il nostro pensiero quindi dell'attività fisica legata ad uno stile di salute e di un buon stato di salute e quindi non solo il fitness è visto come il rimodellamento anche visto come il rimodellamento di immaginamento tonificazione quindi tutto ciò che riguarda la parte estetica, fisica ma anche e soprattutto quello che poi dà a livello mentale e benessere esatto e benessere perché diventa poi uno stile di vita non un'ossessione per il fitness ma uno stile di vita fare attività sportiva per vivere meglio per affrontare meglio la vita e le cose che la vita ci propone anche in momenti come questi fare fitness in un momento di una pandemia globale vuol dire aumentare le proprie difese immunitarie vuol dire affrontare questi stress in maniera più forte e quindi eccolo lì che il fitness diventa un aiuto quotidiano assolutamente quindi non solo difese immunitarie ma proprio di benessere anche per scaricare determinate tensioni benessere mentale perché più rimaniamo con una mente lucida con una mente forte più quindi con un atteggiamento mentale positivo più riusciamo a sopportare diciamo a sopportare sì le avversità della situazione e l'avversità della vita insomma tutto ciò che si presenta in questione meravigliosa che è la vita questo è l'atteggiamento giusto infatti grazie insomma per sensibilizzare un pochino noi che magari che comunque facciamo una vita molto sedentaria e quindi alla fine dobbiamo in qualche modo decidere effettivamente che avere uno stato psicofisico positivo e ovviamente puntando al benessere è fondamentale e quindi Elton Training entriamo nel vivo però perché appunto adesso avete incuriosito i nostri radioascoltatori dobbiamo entrare nel vivo quali sono i corsi? come vi occupate dei vostri allievi? Allora l'Elton Training tant'è che ci crediamo tanto che abbiamo dato il nome alla nostra pagina Elton Training abbiamo un gruppo di allenamento Facebook Elton Training Gruppo e dove in questo gruppo facciamo delle lezioni live gratuite che spaziamo appunto dal fitness allo yoga e nasce appunto la cosa particolare ecco che volevo sottolineare che nasce proprio nel periodo del lockdown perché ci siamo sentiti un po' così abbiamo avuto la voglia di dare un nostro piccolo contributo inizialmente ai nostri allievi e alle persone che ci seguivano e quindi fornire un allenamento totalmente gratuito per stare vicini alle persone aiutarli anche a impiegare del tempo e farlo in maniera così efficace e di aiuto in un periodo così particolare e quindi abbiamo iniziato a fare queste lezioni live totalmente gratuite ripeto e abbiamo avuto un ottimo riscontro a questo abbiamo aggiunto addirittura delle video chiamate dove ci incontravamo e raccontavamo un po' quello che erano le giornate un po' di nostalgia delle palestre e quella parte di socialità che ci è bloccata esatto avete puntato anche su quello assolutamente sì perché sai è stato un aiuto tra virgolette che noi abbiamo dato all'esterno ma nel contempo è un'energia che anche a noi è tornata è tornata sì è un'energia positiva con dei messaggi molto molto belli che abbiamo ricevuto e quindi diciamo ci ha dato anche a noi la forza di creare lezioni dare energia per poterla poi ricevere quindi diciamo che il vostro ovviamente a parte questa bellissima idea che vi è venuta appunto di fare queste pagine questi canali questi insomma questi video queste insomma essere vicini ai vostri elevi in ogni modo ovviamente quando sarà poi tornare possibile anche collaborare comunque con palestre voi comunque siete dei istruttori e personal trainer assolutamente sì 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 noi collaboriamo con palestre anche con istituti medici e centri medici e quindi ecco la nostra collaborazione è con questi in questi settori lezioni di gruppo anche come personal trainer chiaramente ma anche spinning lezioni di acqua fitness anche di posturale posturale assolutamente sì posturale e yoga sì 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 ecco quindi veramente lo yoga in questo periodo ci sta aiutando tantissimo a mantenere la mente proprio positiva e ovviamente poi grazie anche a questi canali e a questa pagina insomma che poi andremo a dare tutti i contatti avete fatto proprio dei pacchetti anche per le vostre per le persone giusto? adeguati a quello che erano le loro necessità sì 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 pacchetti di lezioni che prevedono sia lezioni fitness dove forniamo una serie di video lezioni che possono essere noi li mettiamo a disposizione per dire lunedì mattina ma poi le persone possono comunque eseguirle quando hanno tempo quando sono liberi dal lavoro o da altri impegni e quindi hanno la possibilità di seguire queste lezioni che normalmente sono lezioni a tema dove andiamo abbiamo fatto il bikini fitness che aveva chiaramente un riferimento molto estivo la cosa a tema è bellissima è bellissima certo poi adesso abbiamo invece il pacchetto di Natale il pacchetto dietetico pre e post panettone pre e post Natale siete dei geni fantastici poi a quel punto non si potrà più fare a meno di voi ah grazie una sorta di dipendenza sì 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 perché poi ci vuole anche il pacchetto di Pasqua ve lo dico e ci sarà senz'altro bellissimo allora arriviamo abbiamo sempre idee nuove sì ci piace creare sì nuove strade è bello è questo perché intanto vi piace e poi perché avete già voi un equilibrio mentale dato dal vostro benessere fisico poi c'è alla base questa grande passione che abbiamo verso questo lavoro che è fondamentale fondamentale alla sera arriviamo siamo stanchi ma siamo felici contenti soddisfatti perché facciamo quello che amiamo insomma ci piace molto ci dedichiamo tanto perché diamo tantissimo certo ci vuole impegno è chiaro però come dicevamo prima ciò che ci ritorna è assolutamente appagante è ancora meglio sì perfetto allora diamo qualche riferimento per seguirli sempre a Pierluigi e Fabiana appunto la pagina Facebook e il 10 training così come è scritto ovviamente anche Instagram Pierluigi trattino basso Fabiana trattino basso Pt poi ovviamente potete anche andare a vedere il canale YouTube dove appunto seguire anche determinate lezioni Fabiana Pierluigi e insomma posso darvi anche dei numeri di telefono così per chi volesse contattarli per farvi spiegare insomma magari fare un pacchetto su misura perché no assolutamente quindi ho il 347-3164-912 oppure il 339-45-33065 Pierluigi Fabiana è stato un piacere avervi qui grazie il piacere è stato nostro per averci aperto insomma le vostre porte la vostra mentalità è sicuramente da sposare grazie mille grazie a voi grazie anche a tutti coloro che ci hanno seguito mi raccomando rimanete con noi anche per la prossima intervista Live Social